Bentornati su No Mamamazzo, continuiamo a parlare di Falcon and Winter Soldier, siamo all'ultimo episodio un episodio che ha concluso un po' tutte le trame che erano state lasciate in sospeso devo dire che l'episodio mi ha soddisfatto molto, c'è stato forse qualcosina che avrei, io personalmente avrei voluto vedere diversamente ma adesso ne parliamo insieme, però devo dire che sono rimasto davvero, davvero colpito prima di cominciare se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che ve frega, condividete il video con tutte le persone che si credono Capitan America e commentate qui sotto con quello che ve ne è parso del video e dell'episodio ovviamente iscrivetevi anche agli altri miei social, soprattutto sul sito Viola perché solitamente il martedì parlo della Marvel ora cominciamo con quello che abbiamo visto nell'episodio l'episodio comincia in gran fretta, praticamente siamo nel pieno dell'azione che è stata lasciata in sospeso nell'episodio scorso ovvero i Flag Smasher capitanati da Carly che hanno assediato il Parlamento, l'edificio dove dovevano votare per il ripristino dei confini dove i governanti dovevano fondamentalmente deportare questi rifugiati, così li chiamano, nelle nazioni da dove venivano perché si sa che dopo il blip, quindi dopo che tutte le persone sono state riportate sulla terra dallo schiocco dell'incredibile Hulk ci sono stati anche dei problemi che hanno generato appunto la creazione dei Flag Smasher che non vogliono più confini, non vogliono più paesi divisi ma questo genera un po' di attrito tra le nazioni quindi appunto avevano preso in ostaggio chi doveva votare per questa proposta di ripristinare i confini di riportare tutte le persone blippate al loro paese ed è subito con una scena di apertura, una scena iniziale fantastica che vediamo finalmente Falcon nel suo nuovo costume nel costume che avevamo tanto sperato di vedere anche nella fine della scorsa puntata ma abbiamo solo visto la valigetta che si apriva qua finalmente lo vediamo, è un costume fantastico esattamente come quello, se non sbaglio, dovrebbe essere preciso a quello del fumetto di quando Falcon prende finalmente il manto di Captain America mi è piaciuto vederlo in tutto il suo splendore mi è piaciuto, come ho già detto nel mio scorso video mi è piaciuto tantissimo che gli sia stato fatto dal Wakanda come se fosse una sorta di passaggio del testimone da Black Panther al nuovo Captain America come personaggio che rappresenta la popolazione nera la popolazione afroamericana quantomeno quella che segue queste saghe che segue la Marvel, che segue i fumetti dato anche che appunto c'è Dwee Boseman purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso vediamo anche The Winter Soldier subito nel pieno dell'azione quindi era stato contattato da Falcon proprio perché come ha detto lui stesso nel caso tu abbia bisogno, nel caso tu senti novità su dove si muoveranno i Flag Smasher chiamami che io arrivo e qui infatti vediamo The Winter Soldier subito coinvolto nell'azione tutta la puntata è un connubio di grandi lotte quindi sono scene di combattimento o comunque di azione coreografata dall'inizio alla fine e poi abbiamo un sacco di finali un sacco di epiloghi ecco, forse questa struttura non mi è piaciuta tantissimo però devo dire che c'era tanta carne al fuoco l'hanno voluta chiudere fondamentalmente l'hanno chiusa nello stesso modo in cui hanno chiuso Endgame anche Endgame era pieno di epiloghi non ce n'era solo uno, ce n'erano davvero tanti non so quanto la puntata sia lunga se togliamo questi epiloghi però vabbè, va bene così quando ho visto nella scorsa puntata che Falcon dava le proprie ali a Torres temevo che nel nuovo costume Wakandiano non ci fossero le ali invece ci sono anche perché chiaramente è meglio per Falcon combattere avendo anche il supporto alari dato che non ha il siero del super soldato quindi lo vediamo destreggiarsi in un paio di salvataggi in volo vediamo di nuovo Red Wing che era stato distrutto negli episodi scorsi ma è un nuovo Red Wing creato appunto dal Wakanda parte del costume Wakandiano vediamo che collabora ottimamente con Red Wing riesce a trovare anche tra gli ostaggi una persona che sa pilotare un elicottero quindi esegue un salvataggio in cui lui e Red Wing collaborano insieme all'ostaggio per poter strappare via il pilota il rapitore e non far schiantare l'elicottero devo dire che è stata davvero una bella scena una bella scena mi ha un pochino confuso la scena prima dove c'era un altro elicottero che invece è caduto nel fiume per un attimo ho pensato che fosse quello con gli ostaggi però vabbè probabilmente ero troppo in hype e non ho prestato moltissima attenzione vediamo finalmente il personaggio di Sharon Carter che sposta il culo da madre pure e arriva per qualche strana ragione a New York sotto mentite spoglie con lo stesso sistema che aveva usato Scarlett Johansson che aveva usato la vedova nera in Cartan America The Winter Soldier francamente non sappiamo perché è lì perché è chiaramente una doppio giochista abbiamo finalmente scoperto che è lei power broker una cosa che inizialmente mi sembrava assurda visto chi è il personaggio perché non solo è una collaboratrice di Cartan America ma è anche la nipote di Peggy Carter quindi voglio dire sua nonna si starà rivoltando nella tomba sapendo che ha tradito il suo paese che si sta comportando in questo modo quindi Sharon Carter è power broker a tutti gli effetti quando è arrivata a New York oltre a aiutare un attimino Sam e Bucky in realtà scopriamo che vuole togliere di mezzo i Flag Smasher perché comunque sanno anche la sua identità ha tolto di mezzo il francese per questo motivo ha tolto di mezzo Carly per salvare Sam ma in realtà era per levarla di mezzo e Dulcis in fundo tra questi tra i tanti epiloghi anzi in questo caso nella scena dopo i titoli di coda vediamo che Sharon Carter è stata ripristinata nel senso che il governo gli ha concesso non solo la grazia ma gli ha anche offerto di nuovo il suo vecchio posto nell'intelligence posto che lei ha accettato quindi come potevamo intuire poi lei ce l'ha confermato con una telefonata utilizzerà questa sua nuova posizione per vendere segreti militari a Madripoor quindi ragazzi non oso penso cioè è proprio caduta in una spirale orrenda Sharon Carter però questo potrebbe darci molta speranza per un'eventuale seconda stagione che non so se si farà se non si farà sto dicendo che mi piacerebbe che ci fosse anche perché in un'eventuale seconda stagione o in un futuro film mi piacerebbe anche vedere questo nuovo US Agent questo John Walker che devo dire mi aspettavo che in questo episodio dopo che nello scorso episodio lo abbiamo visto molto arrabbiato costruirsi uno scudo mi aspettavo che venisse a rompere le uova nel paniere a Bucky e Sam mi aspettavo che l'intralciasse di nuovo che volesse lo scudo lo scudo vero non quello che lui si è costruito e invece devo dire che mi ha quasi mi ha piacevolmente stupito ma mi è anche piaciuto che cioè sono stato felice di non vedere quello che avrei pensato di vedere ma di vedere comunque un soldato che fondamentalmente capisce qual è la giusta battaglia e aiuta i protagonisti quindi lo vediamo che in una scena quando deve decidere ovviamente da una fraccata di botte a Carly per l'uccisione del suo amico quando vede quando ha la scelta che si pongono tutti i supereroi ovvero rincorrere il cattivo in questo caso Carly o salvare degli innocenti in questo caso sono le persone nel furgone che stanno per cadere dal palazzo John Walker decide di salvare gli innocenti è stato molto molto bello vedere la posizione di John Walker cioè ovvero che ok è fuori di testa si vede che è un esaltato ormai però è un antieroe riesce ancora a capire ha un suo codice morale e riesce a capire qual è la cosa giusta da fare mi è piaciuto vedere che poi senza battere ciglio comunque ha collaborato con Bucky e Sam e soprattutto anche alla fine quando Sam è a tutti gli effetti sotto gli occhi delle telecamere dei riflettori fa questo commovente commovente discorso ai senatori appunto in diretta mondiale per così dire vediamo che John Walker lo riconosce come Captain America perché gli fa un cenno col capo che fondamentalmente riconosce questo suo nuovo ruolo ed è anche contento in uno dei tanti epiloghi di questo episodio perché lui non ha più il ruolo di Captain America ma ha questo nuovo ruolo tutto contento tutto esaltato di US Agent quindi diventa ufficialmente a tutti gli effetti US Agent la madama che l'aveva contattato nell'episodio scorso che lavora forse per lo shield ma in realtà lavora per l'Hydra è un personaggio dei fumetti che è una diciamo è lavorava per lo shield ma in realtà era una spia dell'Hydra non si sa se anche nel Marvel Cinematic Universe ha lo stesso ruolo ma perché no potrebbe essere vediamo che gli dà questo nuovo costume che fondamentalmente è identico a quello dei fumetti e l'ho adorato quindi non ha più questo costume blu e rosso come lo avevamo visto in tutte le altre puntate privo del bianco il bianco finalmente appare però è bianco rosso e poi c'è il nero e non c'è più la stella a forma di A sull'elmetto che prima aveva che comunque US Agent credo abbia non ricordo però dà un certo dà un cambiamento fa vedere proprio il cambiamento tra un Captain America non accettato e un pazzoide fondamentalmente che è esaltatissimo a questo nuovo epiteto di US Agent lo vediamo proprio contento di aver di nuovo un ruolo in quanto soldato in quanto eroe non so cosa gli passa per la testa ma sono ansioso di vederlo mi è piaciuto vedere che Bucky Barnes ha finalmente riuscito ad affrontare il suo spauracchio più grande quello che vediamo dal primo episodio ovvero parlare con il padre di quell'uomo d'affare asiatico che si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato e che il soldato d'inverno aveva ucciso dopo il discorso che Semmy ha fatto nell'episodio scorso è riuscito a fare ammende è riuscito ad affrontare questo suo mostro del passato ovviamente noi non vediamo la reazione dell'uomo anziano che sicuramente è sconvolto cioè vediamo solo che è sconvolto la notizia e non lo vediamo avere una lunga chiacchierata con Bucky la possiamo solo immaginare però almeno quello che ci interessa a noi vedere è vedere che Bucky ha chiuso il suo cerchio tant'è che ha regalato l'agenda che fu di Steve Rogers alla sua psicologa quindi questo cerchio è stato concluso abbiamo visto anche una fantastica festa sul molo con tutta la famiglia di Sam in cui anche Bucky era invitato una fantastica scena con in sottofondo credo sempre Marvin Gerrick che ha accompagnato un po' tutta la colonna sonora di Sam Wilson e soprattutto abbiamo visto un nuovo incontro tra Sam neonato Captain America e Isaiah Bradley in cui si sono scambiate ancora un paio di opinioni su cosa significhi essere un uomo di colore americano in America con il il manto di Captain America e soprattutto vediamo anche qua una chiusura di un cerchio perché Sam Wilson finalmente dona dona mostra a Isaiah Bradley un'ala del museo di Captain America in cui c'è ci sono le sue gesta le gesta di Isaiah Bradley che più di tutti gli dava fastidio gli faceva del male il fatto che tutto quello che lui aveva fatto per l'America per il suo plotone per salvare il suo plotone era stato insabbiato dimenticato nessuno al pubblico lo aveva mai saputo quindi Sam dona questa zona del museo di Captain America alle gesta di Isaiah Bradley e ovviamente Isaiah Bradley finalmente si lascia andare non è più un vecchio burbero ma finalmente si si lascia andare in un abbraccio a Sam Wilson in cui era visibilmente commosso e appunto chiuso anche lui con il passato quindi si apre un nuovo capitolo per un nuovo Captain America che è Sam Wilson che è Falcon tant'è che nel finale il titolo non è più Falcon and the Winter Soldier ma Captain America and the Winter Soldier e questo mi è piaciuto davvero tanto mi sono tenuto per la fine appunto il discorso commovente di Sam Wilson mi è piaciuto davvero che c'è stato una parte di tentativo di parlare con il cattivo come spesso scimmiotto io negli episodi di Flash che c'è sempre l'eroe che cerca di risolvere la situazione con l'amore lo abbiamo visto tentare da Bucky Barnes fallendo infatti poi si è finiti a uno scontro dove Carly Morgentau è rimasta uccisa ciò nonostante non è non si è festeggiata la vittoria dei buoni perché cattivi terroristi sono morti finita questa cosa questa cosa anni 90 dei film d'azione vediamo Sam super incazzato con tutti i governanti che fa capire cerca di far capire ai governanti ma molto più importante viene ripreso dalle tv in tutto il mondo mentre lo dice fa capire che dietro a una persona che agli occhi di un governante può essere un terrorista c'è qualcosa c'è un motivo per cui fa quello che fa e i governanti dovrebbero domandarsi perché una persona agisce contro delle leggi che gli sembrano ingiuste perché una persona scappa dal proprio paese perché evidentemente non ha altra scelta questo discorso devo dire mi ha davvero commosso mi è piaciuto come Sam come Sam come gli sceneggiatori lo hanno trattato perché sono riusciti a tenere sia un filo logico con gli avvenimenti di quello che è successo nel Marvel Cinematic Universe sia strizzando l'occhio a quella che è la realtà perché è un discorso in cui tutti si possono rivedere nel mondo attuale nel mondo moderno senza appunto essere senza cadere troppo né di qua né di là quindi senza cadere troppo nella fantasia dove hanno citato solo Thanos per un mezzo secondo e hanno parlato del blip per spiegare la situazione e ha fatto anche permeare questo senso di realtà che si può interpretare dal discorso di Sam quindi davvero davvero complimenti per questa serie l'hanno fatta l'hanno confezionata davvero bene io vorrei tantissimo vedere almeno un'altra stagione o comunque che questi argomenti vengano continuati in un film non deve essere magari un film principale magari potrebbe essere come la trama di Hulk nei vari nei vari film mi piacerebbe mi piacerebbe tanto tanto vederlo fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo episodio e di tutta la serie in generale magari vediamo se settimana prossima fare un recap di tutta la serie in un video nel frattempo io come sempre vi ringrazio di avermi seguito fino a qui con l'inchino con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video di tutta la serie Grazie a tutti